Buongiorno, grazie di essere benvenuti questa mattina, avete detto il nostro invito. Sarà a Nola la sede della prima tappa del progetto Scuola e Sport in Tour, presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutosi nella Sala Cirillo di Palazza Notteotti, dall'assessore provinciale allo sport Filippo Monaco, dal dirigente dell'ufficio undicesimo ambito territoriale di Napoli Luisa Franzese, dal delegato Coni di Napoli Sergio Rongelli e dai rappresentanti istituzionali dei comuni di Nola, Castellammare di Stabia, Pozzuoli e Napoli che hanno aderito al progetto. Testimonia l'attrice Rosaria De Cicco. L'iniziativa intende portare la scuola in strada per testimoniare le molteplici attività laboratoriali che quotidianamente vengono svolte nelle aule scolastiche, riaffermando lo sport come uno dei corsi privilegiati attraverso cui oggi è possibile fare educazione e formazione. Saranno realizzati villaggi itineranti nei comuni di Nola, Castellammare, Pozzuoli e Napoli, le attività motorie senza barriere architettoniche, con il coinvolgimento di studenti, bambini, ragazzi, adolescenti e giovani di 50 scuole e la partecipazione di circa 3.000 studenti che si cimenteranno, coordinati da docenti, tecnici, maestri federali ed esperti del settore, in diverse discipline sportive. Abbiamo scelto la piazza, affermato l'assessore Monaco, perché rappresenta il luogo simbolo dell'attività sociale, dove ci si incontra, si discute e si socializza. Assessore Monaco, un'iniziativa importante in cui la provincia mette insieme scuola e sport. Forse c'è la tentazione però di diffondere questa cultura all'indomani anche di quello che è successo a Roma. Quanto è importante che la cultura dello sport si diffonda tra i ragazzi? Non a caso abbiamo scelto di portare lo sport in piazza. La piazza come simbolo della socializzazione è dell'unione. La piazza per diffondere il messaggio di una giusta e corretta attività sportiva, anche dal punto di vista del più alto senso nobile civico dell'attività stessa, di essere insieme, socializzare, armonizzare, sapersi comportare all'interno delle attività sportive. La piazza come simbolo, luogo importante e preminente di questa grande attività. Le piazze simbolo della provincia di Napoli, che abbiamo diviso in quattro macro aree, è omogenee, come voi sapete, da Castellammare a Pozzuoli, passando per la città di Napoli e Nola. Quello che è successo ovviamente ci spinge sempre di più a far sì che queste manifestazioni possono essere fatte all'aperto, non nei luoghi deputati, nei luoghi chiusi, negli stadi come non a caso o nei palazzetti dello sport. Portiamo il messaggio attraverso i giovani, la loro attitudine prevalente al gesto motorio, affinché anche chi vive alla piazza sotto altri punti di vista, non solo dell'attività sportiva ma della socializzazione, appunto come dicevo prima, possa essere un punto di partenza e di buon senso civico e di un senso altamente educativo al futuro di chi si appresta anche a vivere indirettamente, non solo di attore, protagonista dell'attività del gesto sportivo. Dottoressa Francesi, è un progetto importante che riguarda la scuola, lo sport, i ragazzi, il territorio. Che cosa si tratta in particolare? In particolare abbiamo messo insieme, ecco come diceva, più territori, cioè non solo la provincia, non solo Napoli, ma questa volta abbiamo coinvolto anche le piazze della provincia di Napoli, precisamente c'è Nola, c'è Castellammare e c'è Pozzuoli. Queste sono le scuole che le piazze che interesseranno queste attività motorie, le attività motorie che i ragazzi quindi si confronteranno e metteranno in piazza quello che è stato il loro percorso di studi. Tentativo quindi di portare la cultura dello sport all'interno delle scuole e viceversa? E del territorio, perché il territorio deve sapere quello che la scuola fa. La scuola non deve stare solo dentro la classe, ma è anche fuori alla classe, proprio per l'educazione e la crescita come cittadino. Sport, scuola, istituzioni, tutti insieme per diffondere la cultura dello sport a favore dei giovani soprattutto. Quanto questo diventa importante all'indomani di quello che è accaduto sabato? Sicuramente noi oggi lasciamo un messaggio importantissimo. Questo progetto coinvolge quelli che sono chiamati i cosiddetti sport minori, che però sono quelli che alle Olimpiadi ci portano le medaglie e i risultati e poi sono quelli che veicolano solo i messaggi positivi dello sport. Quindi oggi è sicuramente un momento molto importante. Poi lo sport e la scuola devono andare a braccetto, solo stando insieme sport e scuola si possono diffondere nei giovani i valori educativi dello sport che servono sicuramente alla loro crescita e alla loro formazione. Che fa il CONI per diffondere la cultura dello sport all'interno delle scuole? All'interno delle scuole operiamo con molte federazioni, non solo nei licei sportivi che si stanno diffondendo a macchia d'olio con il sostegno del CONI, perché il liceo sportivo senza il CONI e senza le federazioni non può esistere, ma anche a livello nazionale le federazioni hanno capito che il loro futuro è solo il gemellaggio con la scuola, solo se c'è unione con la scuola i giovani si avvicineranno sempre più a tutti gli sport. Grazie a tutti.